L'oroscopo di oggi è offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Chiama allo 0773 49 36 60. Ariete Fantasticherete come non accadeva da parecchio tempo. Una grande energia vi porterà a voler realizzare le idee che avevate in mente. Ma fate attenzione a tenere i piedi ben per terra. Solo così riuscirete a concretizzare alcuni dei progetti più realizzabili. In amore cercherete di non dare peso all'insofferenza che sentite crescere. Toro Farete bene a non fidarvi eccessivamente dei consigli altrui. Ponderate bene i reali interessi delle persone con cui avrete a che fare e leggete tra le righe. Dovrete essere reattivi e pronti a cogliere un'occasione in ambito lavorativo poiché rischierete che qualcuno vi batta sul tempo. In amore sarà bene che evitiate slanci troppo focosi. Gemelli La vittoria è vicina sul lavoro. Andrete incontro a una sfida vittoriosa con chi pensa di saperne più di voi. In amore vi sentirete incompresi e dimenticati ma passerà. Cancro Piacevoli sorprese in arrivo. Un incontro inaspettato cambierà la vostra giornata e vi regalerà un sorriso e il buon umore. In amore dovrete riconsiderare le vostre convinzioni. Leone Sarà una giornata dedicata all'apprendimento. Imparerete alcune cose che non necessariamente si trovano scritte sui libri e questo avrà su di voi un effetto molto positivo. Una gratifica inaspettata addolcirà la giornata dopo un inizio apparentemente in salita. Non vi abbattete di fronte a una piccola difficoltà. In amore un incontro rallegrerà la vostra giornata. Vergine Le certezze si rafforzeranno. Oggi comprenderete la vostra centralità di un progetto che vi affascina e vi alletta. In amore si avvicina il momento di prendere scelte importanti. Bilancia Stringete i denti. Si presenteranno situazioni da risolvere una dopo l'altra. Siate concreti in amore e concederete fruttosamente il vostro tempo. Scorpione Un soldino per un vostro pensiero. La persona che amate cercherà di capirvi ogni vostro minimo pensiero perché evidentemente potreste apparire troppo pensierosi. Cercate di parlare un po' più e vedrete che questo gioverà anche al rapporto. Sagittario Vi sentirete stanchi e spossati. E sul lavoro non mancheranno le critiche ma dovrete trovare la forza per replicarvi. In amore è arrivato il tempo di tirare le somme su una situazione in sospeso. Capricorno Dovrete valutare una persona. Non sarà facile farvi un'opinione dato che le vostre impressioni iniziali saranno divergenti da chi vi sta intorno. Non dovrete curarvi di ciò che vi verrà detto e dovrete scegliere il da farsi esclusivamente puntando su voi stessi. In amore inizierà un periodo di dolce tregua. Pesci Non perdete la speranza. Un aiuto da lontano vi rincuorerà e vi darà le dritte necessarie per sistemare la vostra situazione. Dovrete affidarvi alle persone che vi amano perché non vi fanno mai mancare il proprio sostegno. In amore un litigio sarà necessario per sbloccare una situazione e ritrovare la serenità. L'oroscopo è stato offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Visita il nostro sito www.cartomantieuropei.it